Allora siamo al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo con Claudia Peroni, madrina d'eccezione per questo evento benefico dove ci sono tanti VIP, un evento che poi anche tu Claudia senti molto da vicino perché ricorda una persona a te molto cara. Certo mio padre perché lui ha vestito qua, ha praticato sempre sport qua, non era il golfer al tennis e quindi in qualche modo voglio ricordarlo così, è un evento benefico, meraviglioso, due occhi per chi non vede, per prendere un cane, acquistare un cane per un cieco. Un bellissimo scopo che l'AIDS ha deciso di collegare al centenario e quindi ci sarà qui anche il governatore, insomma sarà una bellissima serata, naturalmente il Circolo Golf di Ulivi di Sanremo è la location più idonea per questa meravigliosa programma, sono intervenuti tantissimi, devo dire mi hanno dato una bellissima risposta a tutti gli invitati che io in qualche modo ho raggiunto a cui ho chiesto di poter partecipare a partire da Michel Platini che è veramente stato eccezionale averlo qui, ma poi un grande da tutti i punti di vista è stato anche Beppe Lossena una volta di più e che mi ha portato qui praticamente tutta la squadra ex calciatori e attuali giocatori di golf e quindi tantissimi giocatori che lo seguono in tutte le varie pro-am e poi abbiamo anche qualche partione delle quattro ruote soprattutto con due ex pilote di Formula 1 come Pierluigi Martini, abbiamo due grandissimi rally, come due volte campione del mondo Mickey Piazion, come Alex Fiorio e poi abbiamo naturalmente Costantino Rocca che è il re del golf che è qui e fa da lustro a tutta la pro-am e poi Daniele Massaro, insomma veramente tantissimi tantissimi VIP, chiamiamoli così, ma soprattutto grandi sportivi, insomma per me è una bella soddisfazione l'onore di essere la madrina ma anche la soddisfazione di aver contribuito a un buon risultato, a un magnifico risultato di questa pro-am benedica. Grazie.